Per la 27esima giornata del campionato a Lievi Elite scendono in campo Savio e Monte Fiascone. I blues di Bolic si schierano con Mancini tra i pali, Decato, Matteoli e Pesarini in difesa, Ingrosso, Serio, Demasi, Podda e Sebastianelli a centrocampo, Volpe e Canepa in attacco. Rispondono gli ospiti di Mister Cerci con Silvestri tra i pali, Citilli, Cabuzzi, Vittori, Picotti e Biglianisi in difesa, Menichelli, Ricci, Moscetti e Battisti a centrocampo, Santos è l'unica punta in avanti. Match subito in discesa per il Savio che già all'ottavo passa in vantaggio, il contatto in aria tra Citilli che e Volpe viene giudicato irregolare dall'arbitro che assegna il penalty. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Volpe che non perdona. Il raddoppio arriva subito dopo, è il 14esimo quando Volpe colpisce la traversa di testa e sulla ribattuta Canepa ribadisce in rete allo stesso modo. Il Montefiascone accusa il colpo e capitola nuovamente al 21esimo. Da applausi la torsione di Canepa sul cross del classe 2001 Pesarin e doppietta personale per il bomber. Ora quota 16 centri totali. Il Savio gestisce e si accende a tratti. Il tiro di podda è telecomandato, poi uno schema su calcio d'angolo, libera al tiro Canepa fuori misura. Prima dell'intervallo si rende protagonista Sebastianelli. Prima calcio alto da ottima posizione dopo l'assist di podda, poi ci riprova con il mancino e il suo diagonale si perde sul fondo. La capolista cala il poker in avvio di ripresa e podda a chiedere ottenere l'1-2 con Volpe e non lasciare scampo. Sottoporta il primo e unico squillo ospite arriva al minuto 14 con la pericolosa ma vana percussione centrale di Battisti. Un minuto più tardi Demasi attiva anche poco prima. Si incunea in aria e costringe Gasbarri a respingere la sua conclusione. La cinquina Blues è però nell'aria. Poco dopo infatti un rimpallo in aria favorisce Volpe che con un colpo di testa di prima intenzione gonfia la rete per la seconda volta. I due tentativi del nuovo entrato Martinelli non sortiscono l'effetto sperato, poi serio ci prova da fuori aria e sfiora l'incrocio dei pali. Nel finale Martinelli sciupa tutto con un palonetto lezioso davanti al portiere. Ma ci pensa Cantor a siglare il gol del definitivo 6-0 approfittando dell'assist al bacio di Volpe. Nonostante le tante assenze a un Montefiascone galvalizzato dalla recente vittoria contro l'Ostiamare, il Savio rispetta i favori del pronostico e colleziona tre punti mai stati in discussione, oltre a mantenere il vantaggio di due punti sulla nuova Tor Treteste. Grazie. Grazie. Grazie.